Sei vicino ad una casa bianca, dietro la casa, stai dietro la casa bianca, in un angolo vi è una finestra appena socchiusa, vai verso sud ovest, poi verso nord ovest, ad ovest della casa, sei in un campo, ad ovest di una casa bianca con una porta di ingresso in legno, c'è una cassettina delle lettere in questo punto, apri la cassetta delle lettere ah, il vincitore della lotteria dei cavalli, non vedevo l'ora di... no, no! no, no, no! no, no, no! no, no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi! Ehi! Ho parlato molto a lungo! Sento movimento! Mi serve una batteria nuova! E tu mi senti? Una batteria nuova! Una volta si chiamava la valle dei passeri. Ehi! Hanno cambiato il nome di recente! Ehi! Oh! Oh! Sento che siamo vicini al faro! Chiedi a quel vecchio sciocco com'è la via verso il sud! Che? Chi va là? Chi sei? E la parola d'ordine? Non posso farti entrare senza la parola d'ordine e non provare pesce spada. So che non è quella. L'ho provata pure io e non sono riuscito a entrare, per cui non è quella. Non ci sono state visite da non so quanto tempo. Devi essere un altro dei vincitori della lotteria di rupa, eh? Ehi! E allora qual è la parola d'ordine? L'hai detta? Non mi ricordo! Non puoi entrare senza la parola d'ordine! Così devi averla già detta, eh? Non mi ricordo! Chambar Est scomparve improvvisamente e Chambar Ovest prese e se ne andò verso sud. A dire il vero non scomparve tutto un tratto. Scomparve, come dire, poco per volta. Prima la locanda, poi l'emporio e poi la casa di Mudok. Un mistero. È scomparsa persino la metà del ponte. La strada verso il sud è impraticabile. È assolutamente impossibile passarvi imperturbabile. La strada verso il sud è impraticabile. È assolutamente impossibile passarvi imperturbabile. Meno male che sapevi la parola d'ordine. È pericoloso lì fu... Torna qui quando vuoi. Fammi sapere se trovi dell'illuminite in più. Mi potrebbe servire. Quel vecchio noioso. Oh, mi ricorda... Hai sentito quella dell'appetito? Del vecchio cinghiale. Oh sì. Ce ne la vorrei... Oh, mi ricorda... 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 Grazie a tutti. Chi sei? Non importa. Vuoi un po' di segale? Ma sì che ne vuoi. Vuoi un po' di segale? Vuoi un po' di segale? Vuoi un po' di segale? Voi un po' di segale. Ma sii che ne vuoi! Chi è come noi? Vuoi un po' di segale? Ma sii che ne vuoi! Ben pochi di sicuro! Vuoi un po' di segale? Ma sii che ne vuoi! Le mie... le mie chiavi! Oh si, si, si certo! Si, si! Sono troppo guidare per briaco! Già che ci sei, ti dispiace comprare l'altra birra! Te ne sarai infinitamente grato! E sono tutti morti! C'è un po' di segale! C'è un po' di segale! A presto!